Ma perchè? Non lo so, pata fallo! PALLO PATA! Ma cosa fai? PATA! Chi l'ha messo? No l'ha messo! No way! Ne hai noccato! Non ho mai visto uno scarso come pata regà! Il Ted again o ce ne andiamo in un altro posto tipo? No basta in un altro cazzo, basta di Ted Andiamo a snobby shorts, non ci sono mai stato? È bella com'è! È bruttissima! È bella! Io mi prendo la terza casa! Quella, come stai Nunzio? Galli, non voglio niente contro di te e così via, però mai stimai che è un po' Napoli Cosa? Moisty Mire? Non ci ho mai stato a Moisty Mire Ma funziona ancora che se spammi spazio fai un viaggio infinito praticamente Tutto a posto, tutto a posto Sto provando qualcosa di nuovo È un P quella roba fia Sì però non capisco niente mentre faccio Eh sì, diventi sordo tipo Il mio cervello va in te Ma che carino le villette di Fortnite È la... è la... Io atterro sulla villa dove girano i porno È il quartiere Gucci questo proprio Ecco qua, questa è la mia villa e non ci provate Non ci provate, questa è la mia È la villa dove si girano i porno I brothers Ah c'è anche un altro che sta arrivando Ragazzi c'è uno che sta arrivando Ma come c'è anche un altro che sta arrivando? Sì da solo Da solo Due ansi Un genio Ma Galli mi ha incurato il posto T'ho detto terzo Tonna d'ammozzo T'ho detto la villa dei porno C'è qualche problema? Guarda Guarda, rubo tutto Ah il... Il fucile d'assalto col mirino è stato effettivamente baffato oppure solo... Sì sì Cioè, so che è stato baffato ma effettivamente lo è o... Una bardelletta ancora Eh, vabbè baffato ma... Almeno... A me sembra che farà abbastanza useless per rispetto all'altra Non capisco dov'è quella cassa Tia, lo sai che c'è il bunker in sto luogo? Ah sì? Ok Non lo sape, Eve Infatti cercavo la cassa Dov'è la cassa qua, Galli? Io non l'ho capito Ah, io non ti conosco Mi ha rubato il caso qua Che rumore strano fa' sta cassa, scusate Quanto puoi è OP la pistolina silenziata? Dio so lo sa Ma anche quella normale OP eh Se trovi la pistola normale blu allo start... Toglie tipo quanto lo scara colpa Una roba del genere Porco cane Qua Galli, saliamo, saliamo Aspetta Sì, è una fake port Ah 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 Il bunker dietro, dietro Vabbè Aspetta un attimo Non sto in cassa Qua è bucato Stando spaccando Arriviamo, arriviamo Eeeh, buonanotte Un pacco sotto Quanti ne avete fatti per adesso? Uno, manca il secondo Eh, un team da due Eeeh, buonanotte Eeeh, buonanotte Eeeh, buonanotte Eeeh, buonanotte Qua sotto Qua sotto Qua sotto Eeeh, buonanotte Eeeh, buonanotte Eeeh, buonanotte Eeeh, buonanotte Chi è tv Andatelo a seguire su youtube Ok Ti prendo un po' un paio Stai abbando Ci dobbiamo muovere Ci dobbiamo muovere Abbiamo Cioè, siamo morti Bene Ok Siamo morti Benissimo Qualcuno non ha già un pod? No, niente Via Io non ho pure No, ma siamo morti Cioè No, non siamo morti Tranquillo Ottimo Adesso troviamo una daccia, tranquillo Ho trovato un buggy La cosa più triste di youtube Sono i video clickbait di fortnite Tipo, dieci cose che non sai Che si poteva Che si possono fare su fortnite E come Come miniatura Uno che guida la macchina Tipo Che spanto tale La gente che clicca E dice Ma è la macchina della miniatura? Si può guidare? Ah ma Eh, ma quella è perché la gente se ne approfitta Eh, ma Il problema è che Sta diventando il nuovo minecraft su youtube fortnite Cioè, a livello di views A livello di seguito Ho seguito quanto Quanto era magari qualche anno fa Clash Royale Minecraft Le robe lì Perché è un gioco free to play Ed è su console Esatto Sempre quello Si ritorna sempre alla stessa cosa Cosa che Overwatch non era Cioè, non era free to play Sì, ma Overwatch Guarda che fine ha fatto Tra i tossici Eh, allora Tra i tossici Tra i tossici della community Tra Infatti io ho smesso di giocare st'estate Perché con poco tempo a disposizione Io non volevo andare a intossicarmi su Overwatch Volevo rilassarmi Cioè, andando nerdavo Dico, vabbè Mi trovo un gioco in cui sparo a caso Prendo sta cazzo Faccio i miei due game Però già hai dato free to play console Un sacco di idee belle free to play console Che comunque non hanno preso piede Tipo? Ce n'era un altro Spara tutto Oh, ci abbiamo gente qua sotto eh? No, ci sono Ah, 110 Lasciamo stare Andiamo, diremo dritto Io diremo dritto Oddio, sono vicini però Regà, ce l'ho davanti Merda Eh, infatti Ce l'avete davanti, regà Dira dritto È un'altra qua a sinistra Stai sparando tu di A? Muore Ciao È morto Ci abbiamo qua sotto la fragia Brother Prima vado Mi tolto lo scudo? Ok È morto Gli ho sparato io perché stava facendo la costruzione per farsi un jumpad, no? Ti hai preso il jumpad? No, non l'ho preso perché era troppo dentro la città, ma... Cado Però è morto comunque perché non è riuscito a farsi il jumpad in tempo Con la pistolina gli ho spammato sulla costruzione finale e gg Sì, ma G sul console è uno schifo Ho visto la grafica e ho qualche misera 4k Destiny ho Oh, non toccherai Destiny È il tuo gioco preferito? Beh Mi gioco ogni giorno Ma Destiny 2 lul che fine ha fatto? Tipo morto, sepolto In un campo di gaote Fa schifo, però adesso fa schifo Però... È un peccato, però Destiny si è rovinato così, eh Gli ultimi aggiornamenti che hanno fatto sembra andare sulla via giusta Quegli aggiornamenti che faranno a marzo, secondo me, si riprende Mmm... I giornamenti fanno scusate Non è troppo tardi Abbiamo gente a 150 150 gente, sale sulla collina Sì, sì, non facciamo Teniamoci nascosti Non facciamoci vedere Possiamo aggredirli da dietro in caso Eh, ora Agente 007 con pistolina silenziato, splinter cell Ma perché la zona è sempre lontanissima da noi? Boh, a me sembra che vada sempre verso solo un lato A volte è veramente rimbarazzante Però lui non è fattibile la zona Nel senso Hanno modificato la jump stamina? Sì Davanti a noi, davanti a noi, la casa davanti a noi Azzurratta e Togger marrone, eh? Quella... Sì Quella 82 Ah, ok Ok, già si capisce meglio Eh, regà, non... Salgo, eh Uno con me Arriva, arriva Pompare Pompare fuori Non ciò Non c'è tre, dai Non c'è tre, dai, dai Let's go Quando fai danno andiamo, sono qua sotto Qua sotto Ruffa, ruffa, ruffa Ho double pump Gli ha spammato le peggio granate Gio, colpi per te del Pompass ti servono No, ma li prendo da questo Mi full e arrivo A me servono colpi dell'assalto, possibilmente Eeeh, scudini? Ah, pensavo si poteva curare mentre ti... Cioè, potevi buildare mentre li curavi Power scudini qua Avete colpi dell'assalto? Io li lasciavi qua, io li lasciavi Io li sto schifo Colpi dell'assalto, vieni qua Io ne ho, beh Ma avete preso tutti i colpi da questo? Facci vostro Che che ha spazio per portare gli scudini? Mi date dei colpi di pompa? Io ce l'ho Io no È partita la safe comunque Eh lo so, ho bisogno di colpi di pompa, regà Ma avete preso tutti Ma io che li ha prese? Uè, aspetta l'altro Mi ha prendo degli scudini Io ho pochissimo materiale, ho Che li ho lasciati qua, porca Dove? No, no, non mi rilasciare Vabbè, vabbè, li prendo, li prendo Vabbè, cammina, cammina, cammina Vabbè, cammina, cammina DTA stiamo andando Cioè Eh, io c'ho pochi colpi Uttia C'è vento avanti Quanta gente? 80 Ma nel forzino? No, no, sono un campo aperto Ah, li vedo perché Stiamo facendo forzino adesso Sono tre, a quello che vedo No, quattro, quattro Quattro Erano tutti in completino nero, tutti e quattro Troppo bello No, uno avrà quello glitter, quella nuova Hanno costruito lì Lì è, lì è Persona in safe Fermati 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 Mi fermo qua, mi fermo qua Mi fermo qua, che allora c'è una cover Ho la un squadio eh Uuuuuh Non sarebbe male utilizzarlo ora per pushare Però poi lo possiamo tenere pure per dopo No, vieni loro per dopo Che fanno, li pushiamo? Aspetta un attimo Sono ancora, sono fuori dal fortino eh Li vedo, li vedo da Siamo alle loro spalle qua praticamente Io non ne vedo manco uno Anche io non ne vedo Ok, li vedo Giù sono a 13 anni Andiamo, 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 andiamo Morto quello, morto quello noccato No, lì c'è uno che sta buildando Noccato uno dentro il fortino Ce n'è uno fuori E' morto quello fuori? Fatto, fatto, fatto Ok Olè Guardalo gullywing Sulla scar Mi prendo l'altro io Saliamo ragazzi qua davanti a me C'è un'altura enorme Comunque praticamente questi qui io gli ho sparato un colpo Sono stati tutto il tempo a guardare da dove avevo sparato Invece che pensare come magari... Eh infatti Per uno dentro le case a 34 Verso di noi? No 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 Saliamo qua sopra Prendiamo sto petto Eh, ovvio, ovvio, ovvio Avvenuto 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 Sai che bella foca di power dall'al lago la bomba Comunque uscire da tilted tower e uscire da quei posti lì C'è una differenza di kill pauroso Eh beh, si Ci mancherebbe Lo vedo Dov'è? Stanno correndo tutti No, ha messo la scuda Si è messo la tipo da chi ti odio La grittata Oddio Ah, sparando al fortino Al fortino tutto a nord Si è buttato di sotto Eh Ops, sbagliato Uno mi ha tagliato i capelli, tipo Mamma mia, che bel nuovo taglio che mi ha fatto Mi piace Abbiamo lanciarazzi, no? No Ria, io ho buildato un attimo la costruzione alta Ma che parlo, cazzo Mi sei dato Alla costruzione Io ho bisogno di colpi per lo sniper, ne ho sette Oh mio Dio Sono caduta Grazie 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 Tieni, vada Tieni 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 Io li vedo Su destra Uff Non me lo potevi dire che stavo io Stavo camminando in capo aperto Ma che dove cazzo vanno? 48 in capo aperto Fittato Quello che corre a 60 No, noccato quello che corre a 60 Ancora? C'è uno sotto di noi È un troll Non è sotto di noi? No, 100 km Ah, merda Ti ha, riesce a restarmi? Ti resta Ti resta Dovete proteggere i muri qua proprio No, ma non sparano più È uno di loro, ha nannocchiato, infatti Sì, state andando da altra parte? Sì, io comincio a scendere Ok Ma che cazzo vanno? Sono 4 persone, vedete È assurdo come sembrano tutti più pro Quando spari a distanza dai fortini Poi magari ti avvicini Fanno vomitare l'anima Che abito Sì, ma gli viene tipo il colpo fortunato No, non togno, niente Ce l'ho un team lì a destra Un team lì a sinistra Quello non mette la testa fuori nemmeno a sognarsi Sì, lo stavo restando e l'ha fatto Sì, lo stavo restando e l'ha fatto Madonna Bevo Bucciamo, busciamo mentre si fai da Knockato uno, knockato uno Knockato uno Bucciamo mentre si fai da Knockato uno No, è sparato Sopra un pochino C'è indietro Bisogna mano No C'è un altro team Poi te la scelta Amato Oh Bella Aiuto Arrivo, arrivo, arrivo Aiuto No, no, costruzioni No, no, costruzioni Dovete, dovete Ma sei sicuro che l'ha ammazzato questo che era qua sopra? Io non ho materiale Sì, sì Ha dato Sono morti tutti Gli ho knockati due Schiattiamo in due Bravo, pata Mi sono appena accorto di aver finito tutto il materiale Quindi ridentiamo il 360 con la bomba quando rimane l'ultimo in vita? Yeah Aspetta, prendo il cecchino quello viola C'avete tipo scudini Io Vieni Arriva un ottimo Schadi Io sono quattro Ando sotto alle scale qui, eh Dove ero io Sotto alle scale Sì, sono qua Sì, sono io esattamente No, mi sono sbagliato Devo andare che la safe arriva Oh, fammi un launchpad Fammi un launchpad Fammi un launchpad Fammi un launchpad che parte il 360 matto Faccio io Vai, 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 vai Eh, sì, ma quando scendo lo faccio Niente, pata è l'ingegner cane Ma perché? Non lo so, pata, fallo Fallo, pata Ma cosa fai? Pata! Io l'ho messo No, l'ho messo No, no Non ho mai visto uno scarso come pada, regà Non ho mai visto uno scarso come pada, ragazzi Sparta trova Stanno sparando da sud? Sì Ho un HP What the fuck Non ti preoccupa, direzze Non li ha ammazzate, non li ha ammazzate Per una niente Eh, non ho più cura Ce l'ho io, ce l'ho io per te Neanch'io ho un HP Ma dai, pata Se ne vuole Metti il launchpad e mette il muro dritto, capisco Ma poi saliva sempre di più senza motivo Cioè, metti quel cazzo di launchpad Appena ci sei Li lancio Lo facciamo, lo facciamo, vai Eh, ma non so che è tanto inoltre così Ragazzi, sei ben dietro, eh? Vai Ci avete dietro? Vai Dimmi quando ci sei Vai, vai, lanciajlo No Oh Oh Sì Sì Arrivo Guardalo Guardalo Oh No, scoop Vado sul prossimo Vado sul prossimo Cosa è tutto? Cioè, io sono passato da 100 full life A un HP Ma vi rendete conto che mi hai fatto danno da caduta e sono finito a un HP? Io sono morto Guardi, io sono morto Come avete preso il danno da caduta? Ma chissà come Ma chissà come è che forse qualcuno ha la granata che spinge? Chissà, chissà, chissà Chissà Allora ragazzi Allora ragazzi Allora ragazzi Allora cosa c'è dentro io? Poi c'è, io sono chissà qui da tutto il volo Non c'è una bollettina tipo Pada, mettilo sto jab Pada, 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 pada Io l'ho messo, io l'ho messo Sì, per te stesso Io l'ho messo neanche volato Sì, ma l'hai messo al contrario Cioè, tu praticamente hai fatto la scala E poi hai messo la scala Hai messo la testa curva del launchpad verso di noi